E rieccoci in studio per la pagina sportiva che apriamo parlando di basket, in particolare parliamo della sfida tra l'Enel Brindisi e la Trenkwalder Reggio Emilia, un quasi derby visto che le formazioni sono entrambe neopromosse in Serie A. Il servizio. Coach Bucchi ha solo un desiderio, trovare nell'uovo di Pasqua quella vittoria che manca ormai da un mese e mezzo. In settimana ci ha provato in tutti i modi a scuotere la sua squadra piombata in un torpore imprevisto e clamoroso. Chi non se la sente più resta in panchina, così ha tuonato il tecnico Brindisino per dare un forte segnale ad un ambiente forse già soddisfatto per quanto fatto finora. Ma un conto è salvarsi chiudendo il campionato in maniera degna, un altro è chiudere con tante sconfitte sul groppone. Questo Bucchi non lo ammette. E stasera, con una vittoria, la salvezza è matematica. Stasera di fronte alle due matricole terribili, anche se in quest'ultimo periodo non più vincenti. Le statistiche vedono prevalere l'Enel per tre vittorie contro due degli emiliani. A Brindisi poi il team biancazzurro ha sempre vinto. Si sfidano anche i due migliori frombolieri del campionato, Taylor Sponda Reggio Emilia e Gibson Sponda Enel Brindisi. La partita sarà decisa dalle loro prodezze, ma anche dall'intensità difensiva che da questa parte latita da tantissimo tempo. E poi c'è il pubblico. Forse il tifo Brindisino ha perso lo smalto nei giorni migliori, in coincidenza con il caro della squadra. Ma questa sera è necessario stare vicino ai giocatori. Si attende il pubblico delle grandi occasioni, nonostante la diretta tv e un palapenta a sulle ha colorato. Sotto esame gli americani dell'Enel Brindisi, Robinson, Reynolds, Ligiano e Gibson devono dare le ultime risposte sul loro valore, anche in chiave conferma per il prossimo anno. E su questo aspetto la società pare avere già le idee molto chiare. Su tutti si cercherà di confermare Simmons la bella sorpresa di questo campionato, oltre a Gibson che però ha la testa ancora rivolta all'NBA e Reynolds. Ed allora, tuffiamoci in questa bella partita con la convinzione di aver dato tutto, ma proprio tutto. Nuovo appuntamento ieri sera con A Tutto Campo. La nostra trasmissione sportiva condotta da Davide Cucinelli. Si è discusso del pareggio tra Brindisi e Taranto, ma anche dell'avvenuto passaggio di quote ad Antonio Flora. Questo un passaggio della trasmissione che per intero potrete vedere in replica dopo il TG. Il Brindisi ieri poteva tranquillamente portare a casa i tre punti, perché il Taranto ieri era poca cosa, così come era stato poca cosa nel ginone d'andata dove ci siamo fatti beffare negli ultimi minuti dell'incontro. Allora risuscitammo il Taranto e quest'oggi abbiamo riregalato due punti al Taranto che assolutamente non meritava di pareggiare la partita. Anche perché ha segnato l'unico episodio su questo rigore concesso anche ingenuamente dal nostro difensore, da Bove, dove assolutamente c'era un rigore nel primo tempo su Albano molto più evidente di quello concesso al Taranto. Però il demerito è stato tutto nostro, perché noi in dieci avremmo dovuto chiudere la partita, sicuramente avremmo dovuto chiudere la partita. Non siamo stati in grado di farlo, perché questa squadra purtroppo ha degli evidenti limiti caratteriali, se vogliamo. Perché dipende, secondo me, tutto da lì, perché tecnicamente la squadra anche ieri ha dimostrato di essere superiore al Taranto per il gioco espresso in campo. I Tarantini ieri in tribuna ce l'hanno riconosciuto. Comunque, purtroppo, un punto io l'avrei firmato all'inizio, però così come è arrivato non mi sta bene. Abbiamo perso due punti. Andiamo avanti. Si è svolto presso il Palazzumbo uno stage rivolto agli atleti dell'Atanasi Taekwondo Academy Group Member. L'iniziativa ha interessato tutti gli atleti con età tra i 6 e i 16 anni, con finalità educative e formative. In concomitanza si sono svolti gli esami per il passaggio di grado con il Cookie One Test e hanno superato l'esame Davide Marzala, Matteo Fiera e Andrea Agnoni. È tutto per questa edizione del telegiornale. Auguro a tutti voi da parte della redazione di Puglia TV una felice e serena Pasqua e vi ringrazio come sempre per la cortese attenzione. Arrivederci! Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Grazie! 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 Grazie a tutti!